Vertenza Almaviva ancora in alto mare. Ieri si è svolto un importante incontro definito da tutte le parti interlocutorio, ma un'apertura sembra esserci stata. Al vertice assente la regione, presenti invece i sottosegretari Steni di Piazza, Lavoro, Alessandra Todde, Sviluppo Economico e l'assessore comunale Giovanna Marano, oltre all'azienda e ai sindacati. Il governo, assicura Emiliano Cammarata, che rappresentava la SLCCGL al tavolo, sta cercando di fare pressioni sui committenti. Qualche spiraio sembra essersi aperto. Una cosa è certa, rimane ancora l'incognita degli esuberi. Fino al 31 marzo ci sarà la cassa integrazione al 35%, ma ad aprile in poi potrebbero scattare 1.600 licenziamenti nel call center di Palermo, dopo il taglio dei volumi da parte di TIM, WIND3 e Alitalia. I fronti su cui si può lavorare, osservano i sindacati, sono due, le tariffe applicate dai committenti ed Almaviva ed i volumi. L'azienda, qualche giorno fa, si è impegnata a riportare tutte le operazioni in Italia, se il prezzo sarà congruo. La richiesta dei sindacati è l'applicazione delle tabelle ministeriali per le tariffe applicate dai principali committenti, che si riflettono sul costo del lavoro. Almaviva, spiega l'azienda, ha confermato ancora una volta nel rispetto del percorso e dei tempi indicati dalle intese, la piena volontà di contribuire a soluzioni che assicurino reale sostenibilità economico-produttiva ed effettiva stabilità occupazionale per il call center di Palermo, colpito dal taglio radicale dei volumi di attività affidate dalla committenza. Ma considerato che nel tempo l'azienda ha messo in campo e ad oggi esaurito ogni leva o strumento possibile a propria autonoma disposizione, specifica Almaviva, la definizione delle soluzioni impone il concorso necessario e urgente dei principali committenti. Almaviva ha ribadito l'assoluta disponibilità a riportare in Italia le attività attualmente svolte fuori dal territorio nazionale, purché a queste venga riconosciuta la corretta remunerazione. Il tavolo non ha ancora prodotto una soluzione necessaria a salvaguardare i livelli occupazionali e il futuro di Almaviva a Palermo, ha commentato il sindaco Leluco Orlando. È comunque importante che tutte le parti continuino un lavoro comune. Auspichiamo che il governo nazionale possa entro Natale portare al tavolo un intervento strutturale efficace al rientro in Italia di significative commesse per assicurare un futuro con meno ansia e preoccupazioni per le 2.500 famiglie che oggi restano preoccupate in attesa.